Allora, io non ho detto che Mazzari non ha fatto nulla, però per voi che non capite nulla, non lo dico subito, avete fatto una gigantesca a quadrone di quest'allenatore, no, è affatto, è normale che fa un allenatore, bravo, e allora ditele per te, ognuno pensa per sé, Vittorio,